Buonasera a tutte e tutto dal benvenuto a nome del Comitato Acqua Pubblica di Torino a tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo in questa iniziativa. Oggi è il martedì 22 marzo 2022 giornata mondiale dell'acqua che ha un sottotitolo particolare quest'anno Acque sotterranee rendere visibile l'invisibile. Noi abbiamo deciso come Comitato di dedicare questa giornata alla campagna giudizio universale di cui non anticipo niente perché ci sono le nostre ospiti i nostri ospiti che ci racconteranno l'iniziativa però ci tengo a spiegare come mai abbiamo deciso di dedicare questa giornata proprio alla campagna giudizio universale e alla questione climatica. Intanto il primo motivo ce l'abbiamo purtroppo sotto gli occhi un po' tutti qui soprattutto in Piemonte ma non solo. Abbiamo appena trascorso quello che è stato classificato il terzo inverno più secco in base ai dati di Arpa Piemonte e il terzo inverno più caldo. Quindi insomma basta guardarsi intorno per vedere un po' i livelli dei fiumi come sono, un po' vedere il colore dei prati come so com'è e insomma ci rendiamo conto che in questo periodo di siccità di come la risorsa idrica diventa strategica e importante. Quindi il primo motivo per cui abbiamo fatto subito questo collegamento nella giornata mondiale dell'acqua sulla questione climatica è ovviamente questo. Poi ci sarà il professor Gonella che ci che ci racconterà meglio quelli che sono gli effetti sulla risorsa idrica della della crisi climatica. Il secondo motivo è legato proprio a questo sottotitolo della giornata mondiale dell'acqua 2022 dedicato alle acque sotterranee perché come comitato come direi proprio di recente abbiamo un po' riacceso i riflettori su un luogo, un posto particolare dove veramente le acque sotterranee sono diventate visibili. Lo dico con un po' di così sarcasmo perché mi sto riferendo al cunicolo esplorativo della Maddalena. Il tunnel geognostico è legato alla grande opera della della linea ad alta velocità Torino-Lyon dal quale cunicolo esplorativo continua a uscire acqua drenata da da questi scavi e a fine 2021 si è verificato un incidente in questo in questo cantiere per il quale la la società che gestisce i lavori che è Telt ha dovuto chiamare i pompieri perché si era allagata la galleria e questa questa notizia, questo evento che era successo ci ha un po' come dire riacceso un po' il campanello di allarme sul fatto che laddove si va a scavare una montagna ovviamente vengono drenate le acque sotterranee e si genera una perdita di risorsa idrica. Allora da quel da quell'evento, da quell'episodio abbiamo deciso di fare una richiesta dati a Telt, una richiesta di accesso civico generalizzato a Telt che ci ha fornito i dati dei quantitativi d'acqua, delle venute d'acqua della galleria di questo cunicolo di 7 chilometri di lunghezza e facendo la somma di tutte queste piccole portate si arrivava alla quantità di 100 litri al secondo. Da quella galleria escono 100 litri al secondo che moltiplicato per l'arco di un anno siamo arrivati a quantificare in un volume d'acqua che potrebbe dare da bere, soddisfare le esigenze idropotabile di 40.000 persone. Allora questo dato, come dire, c'è un po' allarmato, soprattutto legato a come dicevo prima alle situazioni di siccità che purtroppo si verificheranno sempre più intense e sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico e quindi a questo punto diventa come dire, bisogna capire che strategie vogliamo adottare per il nostro futuro se realizzare opere come quella e subire delle perdite di risorsa strategiche preziosa come l'acqua insomma, bisogna a un certo punto fare delle scelte. Come delle scelte vanno fatte anche nella gestione del servizio idrico integrato quello di cui abitualmente ci occupiamo come comitato acqua pubblica e anche nelle scelte degli investimenti che si fanno nella gestione del servizio idrico e anche qui un tema a noi molto caro sul quale cerchiamo continuamente di accendere i riflettori è quello della perdita dalle reti, dagli acquedotti. Su questo c'è un po' di diatriba sui numeri cioè almeno noi dai dati che anche qui siamo riusciti a recuperare in internet possiamo arrivare addirittura a una perdita dalle reti parlo del nostro ambito torinese che supera il 50% di perdite cioè io metto 100 all'inizio dell'acquedotto e arriva solo 50 alla fine lato contesta questi nostri calcoli e si attesta sul 34% facciamo anche una media del 40-45% è chiaro che in questo contesto, ripeto, di siccità perdere così tanta acqua lungo il percorso diventa veramente problematico e non crediamo come comitato che ce lo possiamo ancora permettere questo perché lo dico? lo dico perché queste sono le ragioni di fondo che ci hanno portato come comitato acqua pubblica ad aderire alla campagna giudizio universale e qui quindi arrivo al tema di questa serata e come appunto comitato sosteniamo questa battaglia partecipiamo anche insomma qualcuno di noi è proprio ricorrente di questa causa che è stata ed è in corso di svolgimento nei confronti dello Stato proprio per le inadempienze che lo Stato ha nei confronti della questione climatica ma mi fermo qui non mi addentro perché appunto avremo gli ospiti e le ospiti che ce lo racconteranno molto meglio di quello che posso fare io però questo è un po' il percorso che ci ha portato insomma a parlare di questo argomento proprio oggi che è la giornata mondiale dell'acqua mi fermo qui prima di passare la parola a Marika Di Pierdi dell'associazione a sud con la quale abbiamo costruito questa iniziativa e che è la prima promotrice della campagna giudizio universale ricordo che i microfoni sono tutti spenti e chi gradisse può intervenire, porre delle domande può farlo iscrivendosi nella chat cioè mettendo asterisco il proprio nome nella chat daremo la parola alla fine dei tre interventi insomma sentitevi ovviamente liberi e liberi di porre le domande che insomma anche di contribuire con la vostra opinione il vostro pensiero grazie a tutti